Sono Scotton Walter, il proprietario titolare dell'azienda OM Scotton SNC, che si occupa di produzioni metalmeccaniche a seconda delle necessità del nostro cliente. Noi siamo in Valbretta, provincia di Vicenza. Il punto di forza che ci contraddistingue è il rapporto con il cliente. Quando un cliente si rivolge a noi non ci sono intermediari, il cliente parla con chi poi effettivamente andrà a fare il lavoro. Ci sono aspetti che noi non tenevamo conto come si dovrebbe fare, che ci permettono poi di stabilire una strategia per avanzare e procedere con la nostra attività in modo anche da ingrandirsi. È stato appunto questo che ci ha stupito perché sono cose che si danno per scontato, invece è la cosa che maggiormente è più importante per andare avanti con il lavoro e crescere. Quello che ci è piaciuto di più del percorso è il rapporto che c'è stato tra noi e il consulente. È stato un rapporto subito di fiducia, di rispetto, diciamo un rapporto alla pari che ci ha agevolato nell'apprendere le cose che voi ci ha insegnato e che ci stanno servendo per andare avanti con la nostra azienda. Renovami Business Solution Cash Evolution Business Solution Business Solution